Continuiamo a parlare di cioccolato perché quello che si apre domani sarà un weekend davvero dolcissimo in Umbria. Torna infatti anche l'altro cioccolato, nona edizione, quest'anno nuova location, Castiglion del Lago. E sulle sponde del Lago Trasimeno dunque incontri, dibattiti, degustazioni per un consumo del cacao consapevole. Antonello Brughini. È l'altro cioccolato, il cioccolato equo e solidale. Quest'anno il festival, nato a Gubbio e giunto alla nona edizione, si svolge a Castiglione del Lago. Sapori e saperi con il cacao assoluto protagonista. Fino a domenica nel borgo che si affaccia sul lago, mostra mercato e concerti, dibattiti e proiezioni. Assaggi di cioccolato e consumo consapevole, spettacoli per i bambini. Un appuntamento slow, sottolineano gli organizzatori, che invitano a prendersi il giusto tempo per gustare e riconoscere i diversi sapori delle cose. Vogliamo far conoscere a tutti, dicono ancora, un altro modo di produrre e consumare cacao. Cioccolato dunque sulle sponde del Trasimeno, ma anche artigianato etnico e locale e cibi biologici. Attenzione anche per l'ambiente. Tutti gli espositori, che sono un centinaio, sono stati dotati di illuminazione a basso consumo. L'organizzazione della Kermes è curata dall'Associazione Umbria Eco Solidale, in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago e CTM Altro Mercato.